Tiene e lotta allo spaccio. Controlli, denunce e segnalazioni. In una prima operazione i carabinieri hanno individuato e denunciato un albanese di 25 anni che assieme ad una coppia di giovani viaggiava su una lussuosa Mercedes al cui interno erano nascosti 15 grammi di cocaina e marijuana, già suddivise in dosi pronte allo spaccio. A tradirlo la guida spericolata alla vista della gazzella dei militari. In un secondo controllo i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di una coppia di Zuliano, nota le forze dell'ordine. I militari hanno sequestrato tre involucri con cocaina, marijuana e roina pronta allo spaccio al minuto, sequestrato anche il materiale per il confezionamento delle dosi.